Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un pochino molto importante che riguarda ovviamente quello che sta avvenendo con lo scandalo relativo ovviamente a questa sorta di problematica che si emerge dall'Italia in generale. Allora sapete bene che l'Italia negli ultimi giorni è stata coinvolta in questo profondo problema che è un problema relativo a delle inchieste che sono secondo me molto delicate. Cioè a un certo punto è emersa la notizia mediante la quale ci sono state indagini molto pesanti ai danni di personalità molto importanti del nostro ambiente. Quindi stiamo parlando di calcio ma anche realtà di personaggi insomma italiani di livello dello spettacolo insomma della politica. Quindi sicuramente ci sono tante cose da dire. Vi devo raccontare una cosa. Quindi fra pochi minuti insomma pochi secondi partiamo. Prima di iniziare come al solito tre cose. L'iscrizione, il solito like, la solita campanellina sempre e sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornate. Mi raccomando ragazzi è veramente molto importante. Vi ricordo che se ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche io ovviamente vi ricordo sempre non vi arrivano i video. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora io sono sempre del parere che quando si vada a cominciare un'inchiesta di questo tipo si debba comunque cominciare a rendersi conto che bisogna avere un rispetto. Nel senso questa è un'inchiesta molto delicata. La Juventus è stata coinvolta come sempre ovviamente. Semplicemente perché ci sono stati dei nostri elementi che sono stati messi così praticamente sui giornali a random. Perché ci sono delle indagini ai danni di alcune persone che sono nella Juventus che senza motivo hanno cominciato a ricevere questo trattamento. Quindi da parte di un determinato soggetto, da parte della giustizia, alcuni reporter sono stati incaricati di scoprire quali fossero in realtà le situazioni ovviamente relative alla Juventus e alle situazioni della Juventus. Ma alla fine dopo 3-4 anni praticamente di indagini non c'è stato praticamente nulla che potesse provare, che potesse rappresentare. Praticamente non hanno trovato niente. Ecco, e questo già vorrebbe dire tanto. Perché tu già che hai l'esigenza di mettere un'indagine sulla testa di una persona che non ha fatto letteralmente niente, già lì si sarebbe dovuto diciamo parlare. Ora riparliamo adesso perché la notizia è uscita adesso. Il fatto che tu in 3-4 anni non abbia trovato niente la dice lunga. Quindi mi meraviglio innanzitutto di chi è questo genio che ha autorizzato queste indagini. In secondo luogo io credo che ci siano gli estremi qui per andare a fare qualcosa di serio. Perché non è normale, e questa è una cosa che ho detto altre volte ma lo voglio ripetere perché tanta gente mi ha detto no Matt, però tu devi renderti conto che le persone possono subire... No, io non mi rendo conto proprio di niente ragazzi. Qui si sta parlando di persone normalissime che vengono indagate senza motivo. È una cosa grave. Questa è una cosa per cui ci sono veramente... Questo è un reato vero. Non è una cavolata, non è una cosa così a random, intercettata. È un reato vero. Cioè tu non puoi prendere la vita delle persone e metterla sotto indagine senza motivo. E il motivo per cui la Juventus è totalmente innocente da questa vicenda è che tu in 3-4 anni interi di indagine non sei riuscito a trovare letteralmente niente che potesse essere contro la squadra. Ma è il punto di partenza che sbaglia. Cioè nel senso io non ti devo venire a dire a te che tu non devi fare questa cosa. Tu da persona normale, tu non la dovresti nemmeno fare. Allora siamo sempre al solito discorso. Lasciamo perdere per un secondo il mondo dello spettacolo. Lo conosco abbastanza da poterlo lasciare perché lì c'è tanto da dire e lasciamo perdere perché questo non è il video adatto per parlarne. Allora quindi parliamo un attimino del mondo del calcio. Bene? Se tu in tutta Italia vai ad indagare solo sulla Juventus c'è un problema perché è chiaro che è un problema mentale. Cioè una persona che non ha nessun tipo di problema con la Juve non va a indagare sulla Juve. Dice guarda io voglio fare un'inchiesta, voglio fare un'indagine e indago. Ma non vai a prendere la Juve. Non vai a prendere la Juve senza un motivo. Un conto è che tu avessi un motivo. Dicevo però cavolo mi sono venuto a sapere ad esempio che non lo so c'è un tizio all'interno della Juventus che ha fatto questa cosa. Voglio vedere se è vera, quindi vado a farmi da... E segui un regolamento. Un conto è che tu dal nulla cominci a far indagare le persone senza... Cominci a fare... È una cosa veramente che mi fa... A me fa impazzire questa cosa, veramente. È una cosa che mi fa impazzire. Cioè io sto tranquillo, non ho fatto letteralmente niente, mi devo creare il problema, devo avere la gente dietro che mette le indagini su di me. Ma tu ti rendi conto in che paese viviamo? Ma tu ti rendi conto in che paese stiamo, ragazzi? O sono io che sono strano? Cioè, ti rendi conto che tutto quello che stiamo vedendo è letteralmente... Cioè è una cosa che non si può neanche pensare? Cioè, ma la Juventus... La Juventus in questo caso qua, veramente, non era nemmeno all'inizio. Cioè, noi non eravamo nemmeno coinvolti. Tu, tra tutti coloro che potevi, di cui potevi, vai a lavorare sulla Juventus. La dimostrazione palese di quello che tu sempre... Cioè, e qui si sta sempre a parlare delle stesse cose. Perché loro fanno sempre le stesse cose. E ci accusano sempre delle stesse cose. Quindi noi siamo costretti a rispondere in maniera intelligente. Ti sembra normale che senza avere neanche una modalità tu ti inserisci all'interno della vita delle persone? Tu consideri questa cosa una cosa normale? La gente si è lamentata. Eh no, ma perché tu esageri? Eh ma perché tu non devi di ste cose? Perché tanto alla fine hai fatto le cose, hanno fatto quello che volevano fare... No, loro non potevano farlo. E dal momento in cui tu per 3-4 anni indaghi su una squadra e non trovi niente su quella squadra, ora devi cercare di affrontare la situazione. Perché non è che adesso possiamo far passare tutto come se non fosse accaduto niente. Raga, questa è una cosa... Cioè, non è che possiamo lasciare le cose così. Capito? Ah, ci hanno indagato per 3 anni di fila. Così ci hanno messo i cosi, praticamente. Le microspire, si sentiva tutto quello che diceva facciamo finta di niente. No, questo è un problema che parte dal profondo. Non è il problema dell'essere indagati. È un problema, ma non è solo quello. Non è il fatto di essere indagati a essere grave. È il fatto che tu sei sempre visto come quello che deve fare qualcosa... Come se io per forza dovessi fare qualcosa di sbagliato. Cioè, come se a un certo punto uno della Juve dovesse fare un passo falso. Cioè, tu sei lì, non ti puoi muovere perché trovi qualcuno che te piazza le indagini vicino. È una cosa che non si può fare. Cioè, questa è una cosa che non si può fare. Non si può fare sotto tutti i punti di vista. Allora, o la gente qui prende in giro e so del parere allora che la gente possa prendere in giro allora li diamo ma se poi mi devo sentire dire dalle persone sul web non io, ma leggo tanti commenti leggo tante cose tante persone che scrivono cose e dicono no, ma capirai la Juventus e alla fine se non ha fatto niente che gli frega. Ok, e siamo d'accordo che non gli frega niente. Ma perché tu hai dovuto fare questa cosa? Cioè, si parte da lì. Capite qual è il discorso? Perché hai dovuto fare questa cosa? Se poi dopo 3-4 anni tu infatti non hai niente. Oh, allora è ora che la gente comincia un pochino a rendersi conto che non è normale questa situazione perché se per te è normale allora sei un malato di mente. Perché una persona che non fa niente e che io mi devo mettere addosso a quella persona in attesa che faccia qualcosa sei una persona che non sta bene con la testa. Punto. Sei una persona che non sta bene con la testa. Tu non puoi credere che tutto questo sia normale. Cioè, non puoi credere che chiunque possa essere preso e colpevolizzato senza una ragione. Ragazzi, qui stiamo parlando non stiamo parlando di una cavolata dicendo, ma capirai, l'hanno fatta hanno visto due cose qui stiamo parlando di 3-4 anni di fila c'è gente che ha visto 3-4 anni di fila tutto quello che abbiamo detto tutto quello che abbiamo fatto tutto quello che è stato detto questa è una cosa grave questa è una cosa grave una persona intelligente queste cose qua le capisce poi ci sono le persone che dicono no, ma tanto che fa? Tanto la Juventus non ha fatto niente ma che discorso è? Ma quale diritto hai nel fare questa cosa? Chi t'ha detto niente? Ma chi t'ha... Chi t'è se... Capito qual è il discorso? Quindi, non cominciamo a rendere questa cosa una cosa normale perché non è una cosa normale cioè, cominciamo a chiarire che questa non è una cosa normale quando l'abbiamo chiarita e ci siamo resi conto comunque, e ci siamo resi conto che è una cosa strana perché questa è una cosa perché ti devo dire questa è una cosa molto strana allora possiamo cominciare a parlare dell'inchiesta perché questa è una... Innanzitutto bisogna partire dal presupposto che non è normale che una squadra debba essere trattata in questione non è normale che io mi debba mettere sempre e comunque a rendermi conto delle solite cose no ma perché la Juve potrebbe la Juve forse ha fatto questo belli io mi sono stufato capito qual è il discorso? Di questa situazione qui in questo paese io mi sono stufato ampiamente capito? Ampiamente mi sono stufato non è una cosa normale poi la possiamo giudicare normale quanto volete ma non è una cosa normale perché dovete andare ad indagare su persone che già hanno avuto problemi hanno avuto e hanno comportamenti che non sono normali ce ne sono tanti in Italia di persone su cui indagare ce ne sono tantissime di persone in Italia su cui indagare è inutile che veni a indagare sempre quando il tentativo di trovare qualcosa trovi niente è andata male questo è il discorso indaga su chi devi indagare non indagare sulla gente normale che fa cose normali perché questa è una squadra di calcio è un'azienda e comunque voi cercate sempre di metterci problemi all'interno va bene? beh pensate quello che volete fate quello che volete cercate di cioè rendetevi conto qual è la situazione io vi dico solamente questa rendetevi conto qual è la situazione cioè rendetevi conto a che cosa siamo a che cosa che cosa c'è di anormale rendetevi conto di questo perché se voi ritenete ripeto questa cosa qua una cosa normale io veramente sto alla furia veramente non è una cosa normale cioè sta cosa qui non è una cosa normale il fatto che una persona civile debba crearsi il problema di quanto io parli di quello che dì cioè ma tu davvero stai facendo ma tu stai facendo sul serio ma qui siamo siamo veramente alla follia cioè stiamo veramente alla follia sotto tutti i punti di vista alla follia più totale alla follia più totale è inutile che facciamo che facciamo casino su cose che non esistono siamo alla follia più totale e mi meraviglio veramente io mi meraviglio della gente che fa finta di niente cioè che per loro è una cosa normale capito è una cosa tranquilla serena non vi dovete preoccupare perché ma di che cosa sta a parlare ma di che cosa parli è un po' Grazie.